Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. Un nucleo d'aria fresca nord atlantica ha raggiunto l'Italia che ha portato non solo tanta instabilità ma anche un netto calo termico al nord e al centro Italia a breve coinvolgerà anche il sud. Per quanto riguarda questo sabato si prospetta una giornata complessivamente instabile nei settori interni per la formazione di qualche acquazzone o temporale durante le ore pomeridiane. Parliamo di fenomeni abbastanza isolati e di breve durata. Cieli poco nuvolosi sulle coste e nelle aree più interne nella conca aquilana sulla Marsica con rara possibilità di piogge. Le temperature in netto calo massime tra i 28 e i 30 gradi minime tra i 16 e i 23 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Grazie a tutti i nostri spettatori